allora ragazzi boom il mercato è crollato di nuovo abbiamo visto questo dump generale sul mercato delle cryptocurrency non ci sarebbe stata occasione migliore per fare questo video e trattare finalmente questo argomento è tanto che volevo parlarne è tanto che volevo farvi vedere alcune cose e l'occasione è più che ghiotta visto che anche ieri ho fatto un post che adesso vi farò vedere che ha suscitato molto interesse quindi approfitto della situazione in generale andiamo ad analizzare degli aspetti che è da un po che osservo e che voglio farvi notare più che altro aprire gli occhi di determinate situazioni questo è quello che è successo in circa 24 ore siamo passati da 7.375 dollari su bitcoin a circa 6.400 diciamo che abbiamo perso 1000 dollari in un giorno andando a vedere quello che è il prezzo ci stima appunto una perdita del 12% nelle ultime 24 ore lo faccio vedere ancora meglio in questo grafico qui vediamo appunto quello che è successo e l'impressione che dà da qui è ancora peggio è ancora peggiore di quell'altra è sempre il grafico del bitcoin in corrispettivo con il dollaro quindi la coppia btc dollar btc usd appunto ieri sulla mia pagina facebook ho fatto questo post scrivendo 100.000 btc si muovono da un wallet legato ai fatti della silk road ed il mercato scende i 12 miliardi di capitalizzazione nell'arco di un'ora però c'è ancora chi pensa di fare trading basandosi sull'analisi tecnica un post volutamente volutamente provocatorio vuol dire quello che appunto provocava e la reazione è stata abbastanza calda ho visto che ci sono delle persone che si sono letteralmente offese per il fatto che ho attaccato un approccio legato all'analisi tecnica che invece ci dà questa sicurezza nelle operazioni e tutto ciò che poi circonda una trader che si sente sicuro sulle sue basi tecniche ecco parlando di questo ho sempre detto di come l'analisi tecnica è un supporto come può darci una mano a leggere determinate situazioni ma adesso voglio farvi voglio spiegarvi per bene perché in realtà è un nella maggior parte dei casi quando soprattutto si opera in determinati mercati una perdita di tempo e ancora di più in alcuni casi può diventare veramente pericolosa perché ci dà delle basi su cui noi ci sentiamo sicuri che invece non sono sicure ma proprio per niente non ci dà nessun tipo di sicurezza basta guardare quello che è successo ora siamo scesi sotto e siamo arrivati adesso a 6400 dollari nel caso del bitcoin la maggior parte e guardate prima di fare questo video ne ho veramente viste tante di analisi tecnica anche di professionisti che davano supporti più che confortanti ai 6.800 dollari perché perché non potevano prevedere quello che è successo ieri questa manipolazione enorme che è andata a succedere ma senza scendere troppo in questo caso specifico voglio farvi vedere un altro sempre grafico del bitcoin andiamo a vedere qualche giorno fa quello che è successo e voglio arrivare al 21 agosto 21 agosto abbiamo visto questo rialzo qui in questa parte qui vediamo se riesco a farvelo vedere meglio guardate qui che candela verde che è avvenuta tra il 21 ed il 22 questo rialzo qui eclatante che poi ovviamente è stato un pump seguito un dump poi rialzo ma concentriamoci su questa candela qui di questo momento qui che cosa è successo in quel momento torno di nuovo a coin market cap questa è la lista degli exchange messa in rating messa su una scala di volumi quindi più alto di tutti binance è quello che ha mosso nell'ultima 24 ore i volumi maggiori nel campo delle cryptocurrencies se andiamo a vedere nei volumi negli ultimi 30 giorni alla prima posizione troviamo bit forex questo bit forex che probabilmente motivo non avranno neanche mai sentito nella lista degli exchange in effetti è un exchange che è entrato da poco nella lista di coin market cap e non è l'unico entrato bit bit forex insieme ad un altro exchange chiamato bit max entrambi sono exchange di origine cinese prevalentemente con appunto operazioni che avvengono dalla cina e hanno sedi ovviamente non in cina perché non è possibile farlo ma bit forex ha sede a singapore mentre bit max ha sede ad hong kong quindi hanno sedi legali che non sono in cina ma la maggior parte delle operazioni provengono da operazioni cinesi però di questi due market non parliamo di acquisti di cryptocurrency ossia non si possono comprare i veri sottostanti ma se parliamo di acquisti in derivati quindi derivati che possono essere futures e principalmente trading in leva quindi in leverage perché non vediamo bit max che vi sto nominando perché bit max è addirittura arrivato alla prima posizione proprio in questo contesto qui quando c'è stato questo scambio di volumi qui per una manipolazione che cosa ha fatto dopo averla listata coin market cap l'ha rimossa dalla lista di exchange infatti troviamo la coppia btc usd market su bit max e è un derivato del mercato e non è effettivamente un trading di bitcoin quindi come risultato di questo è stato escluso dal prezzo e dai volumi di me in media per il bitcoin quindi non lo considerano più diciamo che è stato un escamotaggio prima l'hanno messo sapendo che comunque era solamente un mercato che operava su derivati e principalmente su futures e adesso l'hanno escluso da quando abbiamo visto entrare i futures sul mercato delle cryptocurrency è successo un'infinità di cose e il mercato è tendenzialmente cambiato il 2018 abbiamo visto il mercato dei trader benissimo tutti sono confidenti tutti sono diventati trader dicono di come bisogna essere fighissimi perché adesso il mercato è cambiato e bisogna adattarsi a quello che è quindi bisogna diventare trader per fare profitto con le cryptocurrency adesso però vi spiego perché tutto ciò è altamente pericoloso poi ovviamente chi vuole fare il trader su questo mercato continua a sa farlo l'importante è che sa quello che però succede ok bitmax torniamo al discorso che cosa succede il 21 agosto il 21 agosto questo candelotto verde ve lo faccio rivedere qui questo qui il 21 agosto bitmax dichiara in anticipo che avrebbe fatto dei lavori sulla piattaforma quindi la piattaforma sarebbe stata chiusa momentaneamente per dei lavori di manutenzione guarda caso proprio in quella fase in quel momento in cui bitmax che muoveva dei volumi altissimi in quella giornata era appunto in chiusura per manutenzione vediamo un altissimo rialzo un altissimo trend rialzista su quello che è bitcoin proprio in quel momento c'era un grandissimo accumulo di short in leva su quello che era bitmax e non solo non solo chi era andato short non poteva in quel momento operare perché la piattaforma era in manutenzione ma la manutenzione è durata anche mezz'ora in più di quello che era stato il tempo predisposto in quella mezz'ora tutti quelli che avevano operato in short sono stati bruciati letteralmente e anche con grandi grandi perdite perché se si opera in leva spero tutti sappiate perlomeno i trader a scorto lo sanno di cosa sto parlando sono stati grandissimi volumi in perdita e quando si perde su un market come questo che è un broker a tutti gli effetti chi vince è il broker stesso quindi più la gente perde in leva più il broker fa i soldi questo bisogna capirlo ma la cosa sporca è stata non permettere di non fare operazioni proprio in quella fase e c'è stato appunto un grandissimo quantitativo di persone che hanno perso in leva per andare short in quella fase in cui effettivamente anche mezz'ora in più è stata bruciata da un rialzo del prezzo a quel punto che cosa è successo la piattaforma riaperto tutti quelli che hanno perso hanno poi riacquistato comunque bitcoin a prezzo a ribasso abbiamo visto un altissimo volume di acquisti che ha portato questo candelotto verde ragazzi se non è manipolazione questa qui io non so come altro potervelo spiegare a questo punto perché questa storia che vi ho raccontato è importante perché io immagino solamente tutti quei trader che hanno fatto magari ore di analisi tecnica per andarsi a studiare come andare short in quella fase lì poi magari avevano anche la possibilità di rimediare alle loro operazioni perché erano attenti perché erano trader comunque seri che avevano studiato la situazione ma effettivamente non potevano operare perché la piattaforma non gli permetteva di farlo quindi è un'assurdità è un'assurdità mettersi nelle mani mettere i soldi in queste mani soprattutto farci anche una perdita di tempo di studi e di analisi dietro è paradossale per questo voglio mettervi al chiaro dei rischi che succedono in questo mercato qui voglio espandere questo discorso a un discorso più generale perché sempre parlando di queste cose parecchi mi dicono sì ma guarda che il trading tu parli di farlo anche in altri contesti ma guarda che la stessa cosa la manipolazione esiste ovunque sono d'accordo anche perché la manipolazione alle volte è anche un aspetto positivo c'è la possibilità di fare dei soldi con la manipolazione se il mercato effettivamente fosse stabile e non si muovesse i trader non farebbero alcun soldo però c'è da fare attenzione e soprattutto la mia idea e il mio voler essere un pochino più scaltro di questo è non basarsi su delle tecniche che si basano appunto solo su un'analisi che poi si ferma a un certo punto quando succedono queste situazioni allora parliamo anche di altre situazioni come ad esempio CFD e Forex e quindi esco dal campo delle crypto ho osservato ultimamente anche questi mercati ed è la stessa identica cosa tra l'altro voglio riportarvi delle statistiche questa è una statistica esma su quelle che sono state le perdite su questi broker che sono listati in questa lista qui queste sono le perdite stimate e tutti questi broker ammontano a una media di perdita più o meno dell'80% cioè chi investe in Forex o chi investe comunque in queste piattaforme di brokeraggio che sono altro che market makers perdono in media l'80% degli investitori sono in perdita che cosa vuol dire questo? che comunque i market makers che sono poi il banco sono coloro che vincono allora a questo punto voglio introdurre anche questo discorso che cos'è un market maker? come nel caso che abbiamo visto di Bitforex e Bitmax sono dei mercati che non sono il mercato reale ma cercano di riprodurre un mercato e ovviamente giocano con le loro carte cioè come se noi andassimo a giocare con un mazzo truccato andassimo a giocare al poker con un mazzo truccato ovviamente è truccato nel miglior modo possibile ma è truccato in modo tale che in percentuale e in statistica deve vincere sempre il banco vi voglio fare un altro esempio dopo quello di Bitmax guardiamo per esempio quindi andiamo nel campo per Forex cambio euro-dollaro euro-dollaro al momento può attestarsi su 1.162 sul cambio facciamo un esempio mettiamo che il cambio euro-dollaro reale è 1.161 poi nel giro di poco tempo passa da 1.160 poi scende a 1.159 poi risale a 1.161 e di nuovo 1.162 questo è il cambio che avviene nella realtà sul mercato reale noi operiamo su una piattaforma quindi su un market maker quindi un nostro broker online quel broker online che cosa fa? vede quello che succede nel mercato reale e fa un riporta in modo più fedele possibile comunque sia deve essere più fedele possibile quello che è il mercato reale su un mercato che però è fatto appunto in una riproduzione questa riproduzione ha per forza di cose un tempo di ritardo ha un delay e su questo delay, su questo ritardo possono fare tutti i giochi che vogliono questo è bene che si capisca perché se il delay, se il prezzo cambia come vediamo che adesso si è appena riaggiornato ed è cambiato di nuovo cambia soprattutto nel Forex di continuo la volatilità nel cambio euro-dollaro comunque nel Forex in generale ha una volatilità allucinante, assurda a quel punto se il prezzo è cambiato in modo velocissimo da 1,61 è sceso sotto i 1,60 e poi però risale in modo a minuti quindi entro minuti sui 1,62 a quel punto lì se persone erano andate magari in short avevano scommesso appunto che il prezzo sarebbe andato sotto i 1,60 magari con una leva molto elevata e i volumi di leva erano vantaggiosi per fare un buon profitto per il market maker il market maker può semplicemente riportare che dal prezzo di 1,60 questo siccome è venuto in una frazione temporale che può essere nascosto da quello che è il ritardo della riproduzione del mercato può riportare semplicemente quello che è 1,62 saltando semplicemente la fase in cui il prezzo era sceso e bruciando tutti coloro che hanno andato in leva in short ragazzi questo succede e si fa si fa continuamente in questi tipi di mercato quindi soprattutto se la manipolazione è forzata quindi si può forzare con dei volumi grandi un piccolo intervallo di short o di long a seconda di come si sono accumulati i volumi perché poi è facile fare un conto ci sono algoritmi che che fanno vincere sempre il banco e si fa un calcolo su quelle che sono le condizioni migliori su quelle appunto si fa un risultato a quel punto il risultato è che chi fa il market maker l'ha sempre vinta e per quello si vedono statistiche come quelle che vi ho fatto vedere prima ce ne sono ovviamente altre che non voglio fare nomi ma sicuramente conoscerete che offrono il trading online e che riportano comunque statistiche di perdita che sono molto vicine a queste quindi occhio per quello vi dico l'analisi tecnica voi immaginate avete fatto un'analisi tecnica avete perso tempo ore a fare un'analisi tecnica vi sentite professionisti e poi però giocate a questi con queste regole è un'assurdità è una perdita di tempo perché poi si riduce tutto alla fine ad un coin flip a un 50 e 50 perché magari voi avete anche predetto bene le cose ma non state giocando su un campo regolare voglio fare voglio finire con un paradosso calcistico è come fare la tattica la strategia calcistica in un campionato dove comunque il moji telefona il moji di turno telefona agli arbitri ecco è la stessa cosa non ha non ha completamente senso e questo è il discorso legato all'analisi tecnica è il discorso legato a operare su market maker o comunque su mercati non regolamentati e mercati altamente manipolati con volume con volumi piccoli poi aggiungo più il mercato è piccolo è più facile manipolarlo perché bastano volumi sempre più piccoli per fare operazioni del genere che in combotta con broker o market makers rendono il tutto molto più semplice a discapito dei piccoli investitori con questo voglio chiudere questo discorso e perché appunto non credo nell'analisi tecnica sia dal punto di vista soprattutto nelle cryptocurrency ma appunto allo stesso modo anche su mercati che possono essere CFD che può essere Forex per quello quando sto facendo questo percorso e questo video lo inserirò comunque nel percorso del ragionamento sul trading per quello mi sto muovendo su quelli che sono mercati finanziari classici per quanto riguarda il trading e se bisogna operare bisogna operare su mercati che hanno un certo tipo di volume che sono più più regolamentati e il più possibile vicini al mercato reale quindi operare direttamente magari su Wall Street operare sulle azioni questo è il discorso vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo al prossimo video fatemi sapere quello che ne pensate se sto dicendo un mare di cavolate ditemelo perché ovviamente io sto imparando come tanti di voi però preferisco usare la testa più che usare più che seguire fedelmente quello che ci propone l'esperto di turno grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti